All'Ivon 4G con Severino Salvemini, buongiorno e grazie per aver accettato questo incontro. Salvemini, economista, editorialista del Corriere della Sera, editorialista dell'Espresso, nonché presidente di Telecom Italia Media e in questa chiacchierata che vorrei fare qui a Camogli con lei parte dal panel che abbiamo ascoltato, che lei ha fatto con Francesco Profumo, territorio, cultura e risorse naturali, dal coinvolgimento allo sviluppo. Io però la prima domanda gliela voglio fare partendo da Goethe, dice che cavolo c'entra Goethe, c'entra, perché Goethe fece uno straordinario libro, il Grand Tour, il viaggio in Italia, e visitò Napoli, che oggi è al centro della cronaca e dell'attualità, e che cosa scrisse di Napoli? Scrisse, l'Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle strade, ancora truffe al forestiero, si presenti come vuole, onestà tedesca ovunque cercai in vano, c'è vita e animazione qui, ma non ordine e disciplina. Allora, mi torna in mente... Però questa è un'intervista che deve fare a De Magistris, non a me. No, io la faccio a lei, in quanto, wow, di cultura, economista, perché di questo si occupa, per capire a che punto è oggi l'Italia, sia sul versante delle comunicazioni, sia sul versante politico, perché l'immagine che Goethe dà dell'Italia sembra essere ancora questa oggi. No, non è vero, a parte che l'Italia è uno stivale lungo e molto differente, con, diciamo, delle zone più degradate, delle zone più illuminate. Se prendiamo le zone più illuminate, sicuramente l'Italia non è più quella di Goethe, ma è qualcosa di diverso. Oggi abbiamo tentato di chiacchierare con le persone che ci ascoltavano, dicendo quanto il territorio, nel momento in cui è illuminato, produce, diciamo, dei risultati, delle ricadute importanti. Normalmente si pensa che il territorio sia solo un costrutto sociale, mentre invece è anche un costrutto economico. E, diciamo, questo caso del Festival di Comunicazione di Camogli è sicuramente un esempio di che cosa si può fare per passare attraverso l'intrattenimento e la socializzazione dei contenuti, anche un po' una trasformazione del patrimonio cognitivo locale, per usare dei termini grossi. Credo che economicamente il territorio ormai sia un tema che sta sostituendo un po', diciamo, la grande politica, cioè la politica alta, la politica centrale. Cioè nel territorio si vede la concretizzazione dei sogni, si vedono i fatti, c'è una classe di gente che nasce nei territori che lei vede nuova? C'è una classe di gente, beh, insomma, è un po' il discorso del partito dei sindaci. E quella che oggi ha il governo. Renzi stesso viene dal territorio. Io credo che il fatto di venire dai territori e riuscire ad essere molto pragmatici nella risoluzione dei problemi concreti, che possa aiutare poi dopo a non disperdersi nelle cose molto astratte. Certo, poi c'è la necessità che le persone che vengono nel territorio riescano a salire anche sui temi macro. Non voglio esprimere giudizi sul fatto se Renzi sia riuscito oppure no. Infatti lei sa che ci proverò, insomma, a tenerla dentro questo flusso. Direi sul piano delle promesse, sul piano degli annunci sicuramente ci è riuscito. Adesso bisogna vedere se la concretizzazione che lui è riuscito a dare, anche con un po' di resistenza a Firenze, la può dare anche in Italia. Lei lo sente ancora questo vento di innovazione che si porta dietro Renzi? La luna di miele esiste ancora tra il paese e il governo? Allora... Lo chiedo all'uomo di impresa prima che ha l'economista. Preciso come cittadino. Io ho votato Renzi, quindi sicuramente sono una persona che penso che lui abbia potuto dare uno stimolo di innovazione. Sono un po' perplesso su una serie di manovre che Renzi ha fatto, su una serie di decisioni che Renzi ha fatto. Una delle decisioni che mi ha lasciato più perplesso, su cui ho scritto anche sul Corriere, mi sono beccato anche degli insulti da parte della popolazione femminile, è quello della scelta di alcune persone per le nomine presidenziali di enti pubblici, su cui credo che abbia fatto un passo veramente indietro rispetto alle cose che doveva fare. Adesso questa politica dei mille giorni... Si riferisce forse alla dottoressa Mercegaglia? Ad alcune persone che sono state nominate in grandi imprese pubbliche, che non mi sembra siano state... Le ha detto femminili in particolare, io so, sono un po' una zanzara. Quattro femmine sono state fatte... Sì, ho fatto un nome intanto... Insomma, lì forse si poteva andare a scegliere qualcuno che magari fosse meno ancorato a famiglie di proprietà, insomma, magari dare un messaggio più di ascesa sociale da parte di persone che... Un messaggio più rottamatore piuttosto che antico? No, 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 non rottamatore. Un messaggio che dice, beh, visto che dobbiamo andarle a prendere queste donne, visto che di donne dobbiamo parlare, andiamo a prendere almeno delle donne che lo meritano per le proprie caratteristiche e non per il fatto di essere nelle aziende di famiglia, che non mi sembrava un messaggio... Qualcuno si è arrabbiato per questo? Sull'articolo che ho fatto io? Beh, si sono arrabbiate le donne perché hanno pensato che fosse un articolo misogeno e antifemminista, mentre invece... No, no, lo spirito è chiaro, c'è andate a trovare delle donne, ma un po' che non abbiano, come dire, le mani già legate ad altre questioni. Esatto, esatto, no? Cioè, in un'Italia dove abbiamo bisogno di ascensore sociale, cerchiamo di farlo anche su queste cose qua. Ecco, ma volevo riprendere, visto che siamo al Festival della Comunicazione, al primo Festival della Comunicazione, un'immagine, che è un'immagine che abbiamo visto tutti in queste settimane, e che ha fatto molto discutere, ed è l'immagine pubblicata dall'Economist, di questa barca che affonda dell'euro, con Draghi che tenta di buttare fuori l'acqua, a Poppa, Merkel e Hollande, e il nostro premier Renzi rappresentato con un gelato in mano. Allora, questa immagine nel corso di queste settimane è stata al centro un po' anche del dibattito politico. All'Economista Salvevini chiedo, veniamo visti ancora così? No, brutta immagine, credo che rispetto allo stile e alla sobrietà dell'Economist non sia coerente con le valutazioni che loro hanno fatto anche nel passato. Ricordiamo però che l'Economist fu quella della famosa copertina unfit, con un Berlusconi scurissimo, in volto. Lì forse c'erano anche altre ragioni, e forse c'avevano anche ragione. Anzi, senza forse c'avevano ragione. In questo caso, devo dire che, diciamo, prendere come bersaglio Renzi, con tutte le difficoltà che Renzi in questo momento sta avendo nei confronti della burocrazia, nei confronti del funzionariato politico, eccetera, eccetera, mi sembra un po' ingeneroso. In generosa la copertina dell'Economist, abbastanza sproporzionata la reazione del Primo Ministro con i gelati a Palazzo Chigi. Una guasconata. Sì, diciamo le solite renzate. Ah, le solite renzate! Forse si potrebbero... Alcune riescono bene. Io sono particolarmente solidale con la scelta di disertare Ambrosetti, di andare nella rubinetteria, altre invece se le potrebbe davvero risparmiare. Anche lì, appunto, interessante, dal suo punto di vista... Lei c'era a Cernobbio? No. Tanto la invitano però spesso, no? Anche lei quest'anno ha disertato. Non c'era, no. E quindi non c'è andato. Però, proprio sempre sulla comunicazione e sul paese, non nota forse che c'è uno spread, per usare ormai un termine che è entrato nel linguaggio comune, tra i tweet e il realizzato? Uno spread che però diventa sempre più largo. Cioè, tra quali tweet? Tra gli annunci e poi l'operatività del governo. Da parte del governo? Da parte del governo, certo. E quindi questo come si riflette rispetto sia a chi produce, sia il cosiddetto paese reale, insomma. Sì, allora, un conto è la valutazione degli annunci e delle promesse. Cioè, se stiamo sulla valutazione degli annunci e delle promesse, ovviamente siamo tutti insoddisfatti. Un conto se alcune riforme che devono essere fatte, e lì anticipo prevalentemente le due, secondo me, più importanti, che sono la riforma fiscale e la riforma del lavoro. E quella della scuola, voi anche. La metterei dopo. Per lui però, no, dico, questo per lei, ma per lui era, come dire, uno dei primissimi punti su cui ha costruito la campagna delle primarie. Sì, però economicamente, se parliamo di sviluppo, se parliamo di possibile crescita, se parliamo di dribbling, della deflazione, eccetera, le due riforme sono lavoro e fisco. Su queste cose qui non è che loro non abbiano messo le basi per costruire. Il problema è che non ce la fanno in cento giorni. Ce la fanno probabilmente in mille giorni. Il problema è, da parte di Renzi, dato che mille giorni sono tanti, e mille giorni raffreddano l'entusiasmo del suo consenso del 41%, bisogna vedere se Renzi decide a un certo punto di schierarsi per il 41% per cercare di conservarlo, o decide di fare effettivamente le riforme. Il vecchio tema di De Gasperi, se a un certo punto noi ci schieriamo con l'elettore o ci schieriamo con i giugni. Il tema del consenso. L'ostatista vuol dire fare le riforme. Cioè fare cose impopolari, lei sta dicendo. Fare cose impopolari. Ecco, perché a proposito di cose impopolari, Mario Monti, proprio qualche giorno fa... Non posso parlare di Mario Monti. E io per questo però, se no che ci sto a fare? Ha detto una cosa secondo me straordinaria. Cioè a un certo punto dice, una delle tante trasmissioni di televisione, diceva che Renzi è davvero un bivio. Io ho fatto delle cose assolutamente impopolari e le ho fatte nei primi giorni di governo. È vero. Renzi invece ancora di cose strutturali, di shock, di famose docce gelate, di cui tanto si parla anche in questo momento, non ha fatto assolutamente nulla. Non le chiedo di commentarmi Mario Monti. No, no, però credo che innanzitutto dal punto di vista caratteriale, perché poi noi italiani andiamo dentro anche al temperamento dei nostri leader, forse qualcosa a metà tra il Ganassa di Renzi e il Lodenalgido di Monti dovremmo trovare. Una via di mezzo. Una via di mezzo. Che ci riscaldi un po' più i cuori del governo che tecnico e che in un certo senso rappresenti un tragitto più credibile rispetto a quello che vediamo adesso. E comunque è vero che Monti ha fatto delle cose impopolari. Ha fatto anche delle cose impopolari molto affrettate, per l'idea di chiudere molto in fretta, di cui credo che si sia pentito, perché alcune decisioni sono state decisioni un po' diciamo... Sì, d'accordo, ma sono degli esodati, ma probabilmente ce ne sono... Dagli esodati alle barche nelle marine. Sì, sì, no, d'accordo, certo. Però questo ci riporta alla considerazione che lei faceva prima, cioè a questo bio... Però questo è un'intervista politica che io non sono, non so neanche un politico, cioè un'intervista... Alcronomista, lei. Al Festival della Comunicazione. Al Festival della Comunicazione. Quindi bisogna parlare di tutto. Possiamo parlare di... No, siamo pariti dal gelato di Renzi. Ah, dal gelato di Renzi, sì, va bene, va bene. No, le posso fare, proprio per ritornare alla questione, una domanda dopo sulla comunicazione invece, perché gliela ha fatta sul governo e gliela posso rifare invece ripartendo dalla lezione di Umberto Eco di ieri, cioè quando Umberto Eco ha detto che viviamo in un periodo in cui siamo all'eccesso di comunicazione ormai e non si riesce più a discernere, a scegliere e a scegliere l'informazione delle notizie. Le è piaciuta, l'ha sentita, l'ha capita? La conferenza non l'ha sentita, l'ho letta oggi su Repubblica, come sempre lui è una persona estremamente lucido su queste cose, l'overdose di informazioni è alta, l'overdose di immagini in particolare è alta, la grande capacità in questo momento è la grande esperienza, la differenza tra le persone che lo sanno fare e quelli che non lo sanno fare è riuscire a selezionare effettivamente le cose rilevanti, questo è importante. Magari per chi ha più strumenti è più facile, perché riusciamo a reperire le fonti, a sapere chi dà una notizia, soprattutto cosa scritto per altre, è più difficile. Credo che, adesso non voglio assolutamente fare una critica all'intervento di Eco, per carità, Eco è molto sul linguaggio della parola, forse avrei preferito molto capire che cosa vuol dire selezionare in questo momento le immagini, cioè noi abbiamo in Italia in particolare una cultura dell'immagine molto scarsa, una cultura dell'immagine, della fotografia, del cinema, della televisione, molto scarsa dal punto di vista del linguaggio, forse dovremmo migliorare anche quello dal punto di vista della comunicazione. Lei si occupa molto di televisione, la televisione è considerata un... Adesso passo io a farle le domande. Beh, mi sento imbarazzo. È più difficile. La televisione è un linguaggio che è considerato un linguaggio sostanzialmente trash, questo secondo me è molto sbagliato, se vogliamo parlare di innovazione dobbiamo parlare anche di innovazione nei linguaggi, bisognerebbe capire quali sono in questo momento i linguaggi televisivi contemporanei e interessanti e su quello magari lavorarci un po' di più. Non parlo di politica ma parlo di televisione. Il suo programma preferito qual è? In questo momento sono un fan dei programmi di Sky Atlantic. La 7 la guarderà ancora? La 7 la guarderà ancora. No, non voglio entrare in quella... Mi sono un po' stufato di talk show, ma la 7 la guarderà ancora. Ah, anche lei si è stufato di talk show? La cosa preferita è Sky Atlantic, le series nuove che hanno fatto. Cioè anche lei è uno di quelli che ormai si fa il palinsesto da solo sostanzialmente. Cioè la televisione? No, non sono così impalinato, non ho neanche più il registratore per registrare queste cose qui. Guardo le cose che ci sono, preferisco anche guardare le cose trash per capire a che punto siamo arrivati, però mi piace vedere le cose ben girate. A proposito di comunicazione di televisione, noi stessi qui stiamo trasmettendo live on 4G e quindi diciamo con apparecchiature semplicissime riusciamo a fare una televisione anche di grande qualità. Cioè proprio sta cambiando il sistema. Così costate meno il gruppo telecom. Certo, sì, però chiunque teoricamente può diventare, come ci diceva seduto al suo posto poco fa Gerardo Colombo, chiunque può farsi una propria addirittura stazione di trasmissione. Cioè teoricamente potrei, non lo farò mai ovviamente, fare il palinsesto di Parenzo, cioè ognuno, lei potrebbe fare la sua televisione, i suoi programmi, metterli in rete. Se lei pensa che ci sono più di 100 televisioni universitarie in questo momento in Italia, è abbastanza interessante. E gli universitari le vengono? Che passano poco. Però è interessante l'offerta, perché per tutto sommato se lei va a prendere gli studenti e li mette davanti alla necessità di produrre un palinsesto, di fare delle domande, eccetera, anche questo è mestiere, anche questo è apprendistato. Io ringrazio Severino Salvemini per questa intervista. Abbiamo parlato un po' di tutto alla fine. Va bene. Grazie. Grazie a voi.